Benvenuti su Ciper TV. Oggi il 19 marzo, festa del papà e noi festeggiamo tutti i papà e anche tutti i crossfit del papà con quattro round, dove faremo quattro minuti EMOM di 21 oppure 18 calories bike, 18 sumo deadlift high pull con 50 oppure 35 kg e per arrivare alla fine del minuto unwrapped double hunters. Come al solito pesi e scalature sono sulla grafica qui di fianco, auguri a tutti i papà, ci ritroviamo domani per un altro vuoto insieme su Ciper TV.